In contare Joseph Kosut e il suo lavoro, uno dei più rilevanti del secondo novecento dell'arte internazionale, è sempre un'esperienza che va oltre una singola mostra o un singolo evento. Anche perché nella Galleria Mazzolini di Torino l'artista americano si presenta nella duplice veste di autore e di curatore con il progetto Neon in Contextual Play, che unisce i suoi pezzi a opere dell'arte povera. Questa era l'idea, ha detto Kosut da Sky News. I Neon erano scrittura pubblica sotto forma di pubblicità. Come per le definizioni, anche qui il punto era non fissare il concetto di un oggetto, ma permettere di continuare a crearlo e ricrearlo. I concetti come il cuore della riflessione di Kosut, il linguaggio, tema intorno al quale ha costruito una delle più fertili riflessioni artistiche dei decenni passati, che fanno di lui tuttora un gigante, al pari di un Jasper Jones o di un Frank Stella, per citare gli artisti viventi maggiormente rispettati. Ma la chimica della mostra torinese si costruisce soprattutto intorno alla relazione tra Kosut e i lavori di Mario Merz per Paolo Calzolari ed Emilio Prini. Io sono arrivato ai Neon prima dell'arte povera, ha aggiunto l'artista americano, ma loro sono certo che non conoscessero il mio lavoro e anche Bruce Nauman ha cominciato a usarli qualche anno dopo di me, ma li usava in California e non conoscevamo il rispettivo lavoro. Sono arrivato ai Neon spontaneamente, nel mio caso in primo luogo perché c'era già una cultura di scrittura pubblica con i Neon, per vendere i prodotti certo, ma io li ho tolti da quel contesto e li ho usati per i miei scopi. Volevo creare tautologie. Lo stesso doppio binario interpretativo che alimenta il duplice ruolo di Kosut nella mostra a cui abbiamo chiesto che differenza ci sia tra l'artista e il curatore. Sono la stessa cosa, ci ha risposto. Io mi approfio di fotografia o di una sedia, prendo questi oggetti e li uso per generare dei significati. Mi sono detto quindi, come sarebbe bello usare la curatela per creare arte? Però voglio essere molto chiaro, tutto il significato in più che nella mostra deriva dalla mia organizzazione dei lavori è mia responsabilità, per questo è un lavoro artistico più che un vero e proprio lavoro curatoriale. Quando poi gli parliamo dei suoi scritti, come il celebre Art is Idea is Idea, ci risponde che era molto giovane all'epoca, ma comunque lo spirito di che aveva voluto ribaltare il tavolo del sistema dell'arte negli anni Sessanta resta indomito. Tanto che, se citiamo il nome del celebre e molto influente critico Clement Greenberg, Kosut risponde così. Prima di Trump c'era Greenberg. E anche nel paragone tra il critico e l'attuale presidente degli Stati Uniti, si intuisce il senso di una carriera, quella di Kosut, che ha citato le basi perché oggi praticamente tutta l'arte sia arte concettuale. E il neon che da Mazzoleni recita la parola neon, resta come indiscutibile testimonianza di ciò.